Buongiorno, buonasera, buon pranzo, buona cena qua, il bio che vi parla come sempre, siamo tornati con un nuovo video, oggi primo video ufficiale butt spot regulation G, ho due teamettini da vedere di usare, uno con Calyrex Ice e l'altro con Kyogre Rain, con Water Spout per andare a lavare i nostri sozzi avversari, direi che andiamo a giocare con Kyogre. Tra le altre cose vi ricordo di iscrivervi al canale perché quasi nessuno di voi lo è, è una cosa gratuita che non vi costa niente e che potete ripensarci quando volete, quindi iscrivetevi, c'è cazzo, iscrivetevi. Ok, il team è questo, sotto il mio faccione abbiamo Kyogre con Mystic Water, Zampillo, Primo Pulsar, Tuono, Protezione, Urshifu Dark con la Sesh, vabbè più o meno la solita roba, sono tutti i soliti Pokémon più o meno, è il good stuff giapponese, però con l'entrata del Kyogre Lavatore. E poi abbiamo Tornadus e Tera Spettro per evitarci i Fake Out, Mental Herb, con Tailwind, Black Windstorm, Provocazione e Protect. Vediamo, l'ideale sarebbe incominciare a uscire e lavare un po' tutti, in caso abbiamo anche il setup di Calm Mind e Raging Bolt che non è mai affatto male, abbiamo anche il recovery con il Miracle Seed, con l'Erbogenesi di Rillabum, quindi vediamo di fare qualcosa di buono e interessante. Allora, il team del nostro avversario è il seguente, io provo a uscire così, non porto di Torre Regin Bolt, sinceramente sono un po' in crisi con questo team, non ho fatto tantissime partite, però raga non mi ci riesco proprio a trovare, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Sperando che questa che sto registrando vada un pochettino meglio, però vediamo. Allora, lui ha Bodyguard e Fake Out, lui Fake Out, lui ha Sierra Clear Amulet, sicuro. Lui tra l'altro è più veloce. Esatto, Clear su Raikwaza. Allora, io a questo punto E io... Io lo tenebro di qua E faccio Fake Out. Ah, lui ha fatto il matto. Ha deciso di togliere il Fake Outer. Ok, va bene. Vi dirò. Non è così male. Eh, Sbigo no, perché lui qua può fare follow me, quindi... Si arriva di Pugno Tenebrante e... E, e, e... La privazione, che comunque fa abbastanza male anche di là. E qua che abbiamo dietro? Chiovere, Terra Water... Eh, lui è messo così. Potrebbe avere ancora... Eh. Io vi dirò. La Terra qua... La faccio. No, qua la Terra non la faccio. Rifacciamo Sbigo Attacco più... Privazione. Intanto qua lui fa follow me. Esatto. Se le prende lui tutte e due, ma direi che comunque non è male. Ok, buon danno. Buonissimo danno. Sword Dance. Privazione. Benissimo. Allora, qua... La cosa che poi... Io comunque sono... Lui è... Sword Dance gli alza solo l'attacco, solo. Più due. In teoria, se io faccio così, dovrei reggerlo. Fatemi aprire un attimo la classica... La più vecchia tabella dei tipi, però... Sì, io non ricordo male. Le mossi volanti sull'acciaio. Esatto. Eh, vedete che... Ne so, eh. E privazione. Perché di qua lo uccido sicuro. Io continuo su... Sulla mia linea. Assolutamente. Qua continuo sulla mia linea. Perché io qua, tarandolo così... In teoria... Anche a P2... Dovrei poter reggere. Ok. Follow me va benissimo. Che terra ha lui che non terra? Che terra ha lui che non terra? Sono curioso... Di vederlo, ma... Probabilmente non lo scopriremo mai. Squama colpo. Due... Tre... Quattro... Capito. Cinque. Collone. Eh. Cinque ne puoi fare. Spiazze. Però toccala anche la difesa, quindi... La privazione... Lo uccide. Sicuro. E lui rimane con... Con chi rimane? Vediamo. Sono curioso di sapere chi è l'ultimo. Chi sarà l'ultimo? Ok. Va bene. Che... L'avevamo già visto il nostro amico. Ah... E c'è un bao. Ok. Lo sa che il pugno tenebra... Può calare quanto vuole, ma... Io qua uso il protego... E... E... Flare Blitz. Perché secondo me lui va a fare fake out di là. Va a fare fake out su Roshivo. E invece... Usa anche lo sbigolo. Zuffa la reggo? Non reggo zuffa dai. Ok. Pensavo e speravo di leggerla. A parte che... Anche mettere... Sì, potevo mettere dentro Tornados, ma... Ehm... Sì, io qua metterai Tornados. Aumento Tornados, butto dentro... Sì. Perché se faccio così... Comunque sono sotto, non riesco a fare niente. Quindi... Facciamo così. Io uso Sbigo Attacco. Ok, che è poco efficace e... Tailwind per dopo. Così ci mettiamo... In una posizione abbastanza sicura. Dopo. Con il nostro tuonollo. Con il nostro tuonallo. Bodyguard. Ok. Il suo Sbigo parte prima. Ci sta. Ma noi qua comunque mettiamo... La Tailwind. Ed entrando dopo, con Chiogre... Lo... Gli ammettiamo proprio in testa che... Deve far Bodyguard. Noi facciamo così. Lui fa Bodyguard per forza qua. Quindi tuonallo di qua... Più provocazione. User Eye. Anzi... Un attimino. Sì. Qua faccio Protect. Più Taunt. Vediamo. Devo vedere quanti turni avevo ancora di Tailwind. Perché con quello lì... Giustamente... Sapevo se la mia giocata era safe oppure no. Però in teoria... Se io faccio così perché poi penso che lui dopo non lo può fare... Lui adesso lo andrà a tirare buio sicuro. O sennò va a far Terrastella Arcempao. Perfetto. Benissimo. Teragosto. Ok. Per prendere meglio Waterspout. Va benissimo. Lui vuole prendersi meglio Waterspout. Direi che... Non è affatto male. Usa Bodyguard. Va bene. Tauntello amico. E dopo esplodi. Non ho capito. Sgranocchio più Teraghost. Di cosa ha paura? Allora qua non ho niente. Qua non ho niente. Lui ha il drop in difesa per il Close Combat. In teoria. Però noi qua facciamo un Zampillo full vita. Siamo ancora sotto Tailwind. Vero? Sono a risal... Eh due turni. Zampillo. Più tempesta. Mi sa che il nostro amico ha perso. Così a naso eh. Perché partiamo prima noi. Ok. Chi ci può fare Sbigo Attacco però... Nel senso. Zampillo sottoline con Mystic Water. Eccolo lì. Lo Sbigo Attacco malvagio. Che critta. Io non volevo fare Orge Impulse per il semplice fatto che... Beh. Abbiamo vinto. Però... Mamma mia. Sbigo Attacco dovevi andare a crittare. Amico mio che culo. E io qua faccio... Protego. Perché devo proteggere? Intanto entra per forza quella tempesta. Quindi siamo nell'astro chill. Capito? Non li puoi crittare tutti adesso eh. Tempesta. E si vola. Abbiamo vinto. Team che non è male ma secondo me è il team che è arrivato prima nella ladder con Regelecche e Ursaluna anche. E Farigirath. È meglio. Ci sono comunque Tornadus e Chiogre. Non ci sono i Fake Outer. Però ragazzi è un gran team. E niente ragazzi. Questo primo video di Regulation G può finire qua. E noi ci becchiamo con il prossimo. Grazie.